Conosci un certo Kazami? Certo, è il tuo amico. Tomizaki? Certo, coglione. Merda! Merda! Cos'hai fatto? Gli ho solamente chiesto se si ricordava di quando cagavamo nei vasetti di marmellata da piccoli. E non si ricordava. Così per sbaglio abbiamo fatto a botta e per sbaglio è caduto dal balcone. Innanzitutto mi dissocio. E comunque non sai se ancora vivo o morto. Andiamo a cercarlo. Questa è la storia di una classe e la sua maledizione che porterà tutti alla propria morte. Già. Che cazzo è? Ah, è Maishima, tutto bene? Ok, forse no. Nella sala da pranzo, il direttore... Ha esagerato col flambè. Che succede? Che succede? Fuoco, direttore, morte, Maishima, ferito, banana, pesca! Takako! Casa mi è venuto coperto di fango e incazzato, dicendo che Teshigawara stava dando di matto. E così gli ho parlato della cassetta. Perché? Professoressa? Ok, non è lei. Takako! Rimanda il morto alla morte! Le palle! Rimanda il morto alla morte. Abbiamo sentito il nastro. Alla faccia del segreto! Dindo, il nostro che state per ascoltare è gentilmente offerto da uno che non sa mantenere i segreti. È stata Misa Kimei. Andavamo all'elementare insieme. Ma era l'altro occhio quello bendato. Ammazzatela! Oh oh, adesso può essere un problema. Fermo! Siamo salvi. La sala da pranzo. Forse è stata Sugiura. Non è colpa mia. Chi è? Mise Kimei! Basta fra intentimenti! D shutdown大家. Grazie a tutti.